Marte apre gli occhi. È mattina ed il sole è già alto. Sente la sabbia sotto di sé. È ancora umida dopo la notte. Ci affonda le mani, ci affonda le dita e tira un sospiro di sollievo. Finalmente anche quel viaggio in mare è finito. Le ultime ore sono servite a riposare, a recuperare le energie perse nelle ultime settimane. Nella notte il suono della risacca lo ha cullato, rilassato e il sonno è giunto a far riposare le membra stanche. È stato per troppo tempo in mare, non gli fa mai bene, gli sembra di indebolirsi, di perdere parte della sua forza. In acqua i suoi gesti sono sempre poco incisivi, ogni movimento appare rallentato, perde consistenza e questo lo fa infuriare. Acqua, 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 quel continuo, sottile oscillare che non ti fa mai sentire veramente fermo, stabile, solido. Il mare non fa proprio per lui, per fortuna ne è fuori. Per fortuna è tornato a casa. Subito si sente vivo e di ottimo umore. Le armi accanto a sé sono finalmente asciutte e risplendono sotto i primi raggi mattutini del sole. È ora di muoversi, di riappropriarsi dei propri territori. Marte in un balzo è in piedi, le membra ben allenate rispondono subito, sono già pronte all'azione. Una sensazione di benessere lo pervade. Si sente finalmente a suo agio, ora che i piedi posano su un terreno fermo e solido. Cammina e si dirige verso il suo palazzo. Ecco la sua casa, ecco la sua tana. Non c'è luogo che Marte ami più di questo, in cui si senta più a suo agio. Avvicinandosi, con lo sguardo ne percorre il profilo, i muri, le torrette, tutte ben difese. Vede, con piacere, che i suoi ordini sono stati ben eseguiti durante la sua assenza. Tutto è in ordine, non vi è alcun segno di trascuratezza. Il palazzo è solido, essenziale. Contiene tutto ciò che gli serve e nulla di più. Marte tiene qui le sue armi migliori, le sue lance, le armature. È qui che si prepara alla guerra, è qui che si allena. È da qui che parte per le sue migliori avventure. È ormai da quasi un anno e mezzo che manca da casa. Quando entra, i servi abbassano il capo al suo passaggio, in segno di saluto e di rispetto. Tutti si girano a guardarlo. Il Signore è tornato. Cercano di capirne l'umore. Lui non se ne cura. Attraversa il cortile con passo sicuro, veloce, la falcata ampia. Desidera fare in fretta. Non starà qui a lungo. Ogni minuto è prezioso per preparare la guerra, l'azione, per essere pronti a muoversi. Ha il desiderio di agire. Ne sente proprio il bisogno fisico. Desidera l'avversario dinanzi a sé. E lo desidera forte, al pari di lui nel coraggio. L'esito del confronto non deve essere scontato, ma deve essere raggiunto per merito, con onore, con orgoglio. Solo così gli piace vincere. È questo ciò che Marte sa fare meglio. È questo ciò che lo fa sentire vivo. Nella guerra, nel duello, altro che il mare. Improvvisamente si blocca. In lontananza ha scorto Venere. Si era dimenticato che in questo periodo sarebbe stata ospite nel suo palazzo. A lei non piace stare qui. E lui lo sa, la conosce fin troppo bene. La vede e cerca di incrociarne lo sguardo. È splendida, vestita da amazzone, fiera, nobile, sensuale. Subito gli sale alla mente il ricordo del suo corpo. Un attimo di esitazione, forse prima della guerra si potrebbe. Lei lo vede, lo guarda sprezzante, lo gela con un'occhiata che lo frena subito dall'avvicinarsi ulteriormente. Lui sospira. Quando si incontrano lì, in quel palazzo, è sempre guerra fra loro. C'è troppa intensità, troppo nervosismo. È come se si dessero la scossa quando si incontrano. Per lei è faticoso, per lui eccitante. Ma non è questo il momento. Marte, quindi, dopo un leggero cenno di saluto, si allontana frettolosamente. Deve ancora controllare che tutto sia in ordine, che durante la sua assenza si siano presi cura dei suoi cavalli, delle sue armi, che ora tutto sia già pronto. Marte già non pensa più al mare che ha appena lasciato. Il suo pensiero è ormai già rivolto al futuro, alla guerra, all'azione che lo attende. Un brivido di eccitazione lo coglie. Marte è tornato. Marte è in ariete.